. Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 2 aprile, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, l'amore torna protagonista della vostra vita e aspettatevi nuovi incontri molto interessanti e perché no, anche un bel colpo di fulmine. Sul lavoro è arrivato il momento di mettere una pietra sopra il passato. Cambiamenti in vista. La quiete non si adatta ai nati del segno che sono sempre alla ricerca di nuove sfide con vibrazioni positive e ottimismo da vendere. L'indipendenza della riete lo aiuta a funzionare in gruppo o in solitudine e il più delle volte ottengono lo stesso risultato. Sul lavoro avrai ragione se allontani le persone invadenti per evitare rischi. In amore, l'appuntamento tanto atteso sarà rimandato, ma qualcosa di indimenticabile sta per accadere. In amore avrete a disposizione molte frecce al vostro arco per colpire la preda giusta. Siete capaci di essere il partner perfetto e dovete assicuravi di essere con qualcuno che lo capisca. I progetti per il futuro possono essere realizzati grazie alla vostra perfetta organizzazione e con un po' più di elasticità per quello che riguarda i tempi di realizzazione. Ci è qualcosa di molto impegnativo che vi attende in questa giornata. La serietà dei vostri comportamenti vi potrebbe aiutare professionalmente, a tirare dalla vostra parte alcuni alleati importanti. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 7, benessere, 7. Toro. Cari toro, stagione importante per i sentimenti, c'è chi sta addirittura pensando a una convivenza o a un matrimonio. Sul lavoro, favorite gli incontri e i contatti con persone importanti, datevi da fare. Hai il vantaggio di essere una persona con molta pace. La forza di volontà è uno dei valori più forti, anche se non siete alla ricerca di cambiamenti costanti. Nel lavoro le buone idee miglioreranno la situazione materiale e le vostre abilità avranno successo. In amore, il partner vi sorprenderà con un regalo ingegnoso. Forse questa non è la giornata più adatta per discutere di soldi con qualcuno ce vi è vicino o anche per questioni di affari. Tenete sotto controllo la situazione economica evitando spese affrettate. In questa giornata il vostro cuore avrebbe bisogno di una scossa, in modo tale da essere più sensibili alle richieste della persona che amate e che ricambierebbe con tanto affetto le vostre cure. Questa sarebbe davvero un'ottima giornata per parlare con i vostri amici e spiegare loro che la vostra situazione sentimentale si sta rivelando più complicata del previsto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 5, finanze, 6, benessere, 6. Gemelli. Cari gemelli, non abbiate paura di affrontare discorsi che vi spaventano, è la giornata ideale per farlo. Se siete single non rinunciate ad appuntamenti privati o sul lavoro, e mi raccomando, non posticipate i colloqui. Ogni lasciata è persa. C'è una certa innocenza nello sviluppo della tua routine che può portare errori così come grandi momenti di felicità e molta immaginazione. Sul lavoro la stabilità regnerà le operazioni saranno positive e il denaro crescerà. In amore il tuo partner esigerà risposte che potresti non avere è conveniente mettere a fuoco. Ottime occasioni in amore. Avete il fascino giusto per proporre una uscita e per fare in modo che non vi si possa rifiutare. Una giornata così piena di impegni da costringervi a disdire un appuntamento, ma questo alla fine si rivelerà un fatto positivo. Il modo in cui state ora guardando la vostra vita lavorativa sarà di grande aiuto, perché state ricevendo influenze positive che vi aiuteranno a concentrarvi sulle cose essenziali e a lasciare da parte l'innecessario. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 9, finanze, 6, benessere, 7. Cancro. Cari cancro, godetevi la vostra voglia di spensieratezza. Se invece siete alla ricerca di un legame duraturo le stelle vi proteggeranno. Qualche piccolo inconveniente sul lavoro non dovrà spaventarvi. Fate più attenzione se si tratta di inconvenienti legali o amministrativi. Il comfort può essere un baluardo per il cancro, con un grande sostegno nella propria casa, che sviluppa un carattere timido ma senza perdere la sua lucentezza. C'è molto valore nel nido creato con i loro affetti, quindi può essere immagazzinato nei loro sentimenti e nel loro modo di svilupparsi. Sul lavoro la situazione non sarà facile e ci sarà la possibilità di qualche perdita, ma tornerà. In amore e buon umore, ottimismo, piacere cresceranno nei momenti di intima armonia. Basta fare esperimenti nelle vostre relazioni personali, potreste incorrere in seri problemi. Cercate di non giocare con i sentimenti, né con i vostri, né con quelli degli altri. Non rimpiangete ciò che oramai avete salutato per sempre, c'è sempre qualcosa di nuovo sia in amore che in affari che vi farà dimenticare il passato. Se volete salvarvi dagli intoppi, cercate di lavorare sodo e, una volta tornati a casa, rimboccarvi le maniche. Un impegno di lavoro o un appuntamento galante che diventerà importante, non possono farvi distrarre durante la giornata. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 6, benessere, 7. Leone. Cari leone, non buttatevi a capofitto in una nuova storia d'amore se prima non l'avete valutata attentamente. Sul lavoro mantenete la calma e non fativi influenzare dai problemi che avete in casa. È uno dei segni più forti dello zodiaco. Coraggio e sicurezza possono essere i tuoi punti di forza per creare nuovi legami ed essere a capo di gruppi sul posto di lavoro o sul tuo lato più personale. Sul lavoro la spesa eccessiva minaccerà la stabilità. Un buon controllo eviterà gli sprechi. In amore il tuo partner chiederà attenzione insistentemente vale la pena ascoltare. Il vostro fascino e la salute saranno in netto miglioramento, specie se appartenete alla seconda decade. Dando il meglio di voi, farete felici anche chi ha sempre creduto in voi. Soprattutto in questa giornata potreste trovarvi davanti a delle scelte che hanno bisogno di una risoluzione tempestiva e quello che dovete fare non è altro che affidarvi al vostro istinto per gli affari. Potrete risolvere egregiamente molti problemi professionali e rafforzare il rapporto con i colleghi, superando incomprensioni del passato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 6, finanze, 6, benessere, 7. Vergine. Cari vergine, è il momento di mettersi in gioco in amore e non date sempre la colpa agli altri se le cose non vanno. Agite. Potrebbe esserci qualche piccolo problema di soldi sul lavoro, fate attenzione. La precisione ha molto a che fare con la ricerca di una pulizia perfetta, sia personale che in casa. Questo può scatenare conflitti, anche se di solito soffre della complicazione di avere amicizie a causa della sua freddezza nei sentimenti e nelle azioni. Sul lavoro responsabilità in crisi. Sarà conveniente rivedere il ruolo di ciascuno e agire. In amore cercherai di relazionarti con qualcuno che mostra un carattere estroverso. In amore sarete irresistibili e il vostro calore umano sarà corrisposto. I vostri consigli sono importanti per molti. Oggi non rimanete sorpresi se vi dicono cose meravigliose su come vestite o sulla vostra intelligenza. I vostri amici capiranno se dovrete disdire un impegno, per problemi di lavoro. Ricordate che verrà il tempo per celebrare il vostro successo e per raccogliere le lodi di quanti non avevano voluto credere in voi. Forse questo periodo è quello che aspettavate da tempo, una occasione per cambiare quello che non vi piace più della vostra vita. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 5, finanze, 9, benessere, 7. Bilancia. Cari bilancia, via libera le emozioni in questa giornata. Favorito il weekend ma fate attenzione alla vostra solita voglia di indipendenza. Sul lavoro sarete costretti ad affrontare discussioni ma troverete il modo di far sentire la vostra voce. Fatevi valere, pur con diplomazia ed educazione. Il buon gusto della bilancia sembra essere il miglior aspetto positivo del segno. La sua capacità di risolvere i conflitti diplomaticamente significa che non esita a intervenire nelle discussioni degli altri. Certo, può scatenare problemi per trovare un'opinione opposta loro. Sul lavoro contribuirai con progetti audaci per il tuo ambiente. Buon risultato. In amore dovremo cambiare con affetto. Attendete che la confusione passi e che tutto torni ad avere un senso. L'importante è che voi sappiate di valere più di quanto gli altri possano immaginare. Se non vi sentite realizzati e la vita che vivete vi sta un po' stretta, non prendete vela con il lavoro o con il capo o con il professore di turno, dovete chiedere a voi stessi il perché di tanta riluttanza, senza coinvolgere chi non può capirvi. A volte cercate di evitare di progettare la parte più complessa delle cose, siete degli idealisti e sporcarvi le mani con il duro lavoro, vi sembra eccessivo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 7, benessere, 7. Scorpione. Cari scorpione, il peggio è passato. L'amore torna ad essere più forte. Non caricatevi di troppo lavoro e approfittate del tempo libero per fare qualcosa che vi piace. Dovete curare i vostri hobby e prendere del tempo per voi stessi e gli affetti più cari. Non di solo pane vive l'uomo. Lo scorpione può avere una doppia faccia che include vehemenza, sebbene siano anche irresistibili nel loro modo di trattare con gli altri. Naturalmente, le critiche non sfuggono mai loro, sia personalmente che esternamente e questo di solito porta qualche conflitto. Sul lavoro la sfiducia genererà problemi che compromettono i tuoi obiettivi. In amore meno parole e più gesti accenderanno la seduzione letargica. Forse vi sfuggirà qualcosa, ma niente a cui non si possa rimediare. Cercate ovviamente di ridurre le spese in questo periodo di crisi, ma senza troppo esagerare, le cose necessarie restano sempre tali. Potrebbe essere utile parlare apertamente al partner o all'amico riguardo a quello che vi sta succedendo. Lasciate pure che una vostra amica commetta i propri errori, così come nelle stesse circostanze li avete commessi voi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, Attività, 7, Finanze, 7, Beneessere, 7. Sagittario. Cari sagittario, attenzione alle arrabbiature d'amore che potrebbero causare nervosismo nella vita di coppia. Dal punto di vista lavorativo siete un po' svogliati, avete bisogno di nuovi stimoli, ma per adesso ci vuole ancora un po' di pazienza. Ricaricateve con le vostre passioni creative. Ami esplorare l'ignoto grazie anche alla mente aperta a progetti e avventure. Il difetto principale è l'impazienza, che si scontra direttamente per il loro desiderio di cercare esperienze diverse. Sul lavoro la chiave del giorno, proteggere i documenti preziosi. Rischio di perdita. In amore i rapidi cambiamenti non saranno propizi. Invece, fermati e medita. Se ci sono novità nella vostra vita sentimentale, apritevi con quanti vi vogliono bene, saranno felici per voi, in quanto erano un po' preoccupati. Il vostro fascino in questa giornata è sicuramente molto più coinvolgente che negli altri giorni nel corso di questa settimana. Il denaro va a braccetto col piacere, oggi avrete voglia di togliervi un capriccio. Se è ragionevole, chi può dire che non ve lo meritate? Potrete organizzare un piacevole viaggio, incontrare gli amici o portare a termine una trattativa di lavoro. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 9, finanze, 7, benessere, 7. Capricorno. Cari capricorno, valutate bene le nuove storie d'amore e se ne vale la pena portatele avanti. Grandi emozioni vi aspettano questa domenica. Sul lavoro, chi ha appena iniziato un nuovo progetto a il favore delle stelle. Potete portarlo avanti con entusiasmo e togliervi belle soddisfazioni. Insomma, rimboccatevi le maniche. Sei molto determinato a raggiungere l'obiettivo che stai cercando, che può diventare una piccola ossessione. La domanda con la tua cerchia può costare cara, anche se questo porta anche molto impegno ai tuoi cari. Sul lavoro la situazione sarà complicata, ma le persone giuste verranno in tuo aiuto. In amore un incontro casuale sarà all'inizio di una relazione che promette calore. Mantenete sempre un atteggiamento disponibile e equilibrato in amore, per evitare battibecchi e dissapori. Non date per scontati i vostri rapporti, poiché richiedono attenzioni continue. Fare affari importanti per voi può essere una nuova sensazione, ma non è un motivo per essere intimidito da colletti bianchi e cravate. Stanche e affannate, affronterete il lavoro e la vita di relazione partecipando al minimo, cosa che le vostre scarse risorse vi permettono. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 8, finanze, 7, benessere, 8. Acquario. Cari Acquario, finalmente inizia una fase più positiva in amore. Non scoraggiatevi. Per quanto riguarda il lavoro, non mancheranno navità e sorprese per i più audaci. Migliora anche il settore economico. Ci sono due facce anche se possono andare d'accordo con l'idea di mescolare le personalità. Da un lato, sensibilità e pazienza e dall'altro, esuberante e frivolo con il suo modo di vivere le sue giornate. In ogni caso, non esitano a cedere alle discussioni se scoprono che non è corretto. Sul lavoro ci sarà un po' di confusione. I fatti dovranno essere raccolti e i dati veritieri ottenuti. In amore è una fase di rinnovamento. Specialmente in questa giornata cercate di resistere alla tentazione di sperperare in cose futili i vostri averi, perché potrebbero prospettarsi tempi molto duri se avvierete un affare sbagliato. Abbiate l'abilità di capire il momento adatto per parlare ed esprimere il proprio parere. In questa giornata un piccolo dramma vi farà perdere la pazienza e non riuscirete probabilmente a portare a termine un impegno preso precedentemente, con una persona molto importante, sia che si tratti di affari o di sentimenti. Farete meglio a evitare di comunicare cattive notizie nella giornata di oggi, potreste attirarvi la collera di qualcuno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 4, attività, 6, finanze, 5, benessere, 5. Pesci. Cari pesci, Venere incontra Giove in un connubio perfetto che regala gioia alle coppie che si vogliono bene. Novità per i più giovani dal punto di vista lavorativo. Sono favoriti i colloqui. Potete portare avanti un bel progetto e costruire qualcosa di speciale. Carpe diem. L'empatia sembra essere la chiave per i nati sotto il segno, quindi non hai complicazioni a relazionarti con altre persone. Di solito è uno dei segni più amati, poiché portano simpatia e affetto ai membri della loro cerchia ristretta. Sul lavoro le modifiche favorevoli confermeranno che il tuo progetto è ban considerato. In amore confessione inaspettata ti darà il coraggio di prendere una decisione posticipata. Per tutte, fascino in abbondanza. Cambierete idea su una questione importante grazie ai consigli di una persona di cui vi fidate e che stimate molto. Nel lavoro, senza incontrare difficoltà, potrete portare avanti i progetti che vi interessano. La vostra creatività in questa giornata sarà molto attiva e potreste sicuramente sfruttarla a vostro vantaggio. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 9, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo!